Donald Trump è ufficialmente il candidato del Partito Repubblicano per la corsa alla Casa Bianca che esiderà il prossimo novembre. La conferma è giunta alla convention di Milwaukee, salutato da una standing ovation al suo ingresso all'Assemblea. Trump ha ringraziato i presenti ed ha nominato il suo vice. Sarà il giovane senatore dell'Ohio, James David Vance. Intanto Joe Biden respinge i rilievi sulla sua età, ricordando che è solo tre anni più vecchio di Donald Trump e si è detto pronto ad un secondo dibattito TV con il rivale a settembre. Grazie.